E' bello questo pendaggio al posto del Hegum Necklace, sì assolutamente. Sette, sette, sette. Io non capisco perché sono più avanti di voi. Io vado di magica subito. Sono quasi più del sette. Vado a colpo un po' più difficile. No, vado, 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 vado. Che adesso non ci sarà più ovviamente, almeno credo. Ma no, certo che no. Outlander, over here. Ho cercato di trovare qualcosa che fa senso di tutto. Azzurra, azzurra. Vado, la 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 di twilight ha parole per te. Quindi, Vivette non mi chiede a un' ayuda? Ho visto un'evento, ma non credo. Ecco bene. Per se continui a lavorarci, noi potremmo fare le esforzioni di Clavica e il suo palazzo, Barbas. Come ho avuto, i misteri sono riconoscire che Barbas cercano di entrare la città della città. Inizialmente, i palazzo i palazzo hanno impedito, ma il palazzo ha avuto il palazzo. Ok, aspettate, diteci quando fare questa evocazione facciamola tutti assieme Ok, intanto bisogna parlare con Baba Rildar Possiamo parlare? Ok, quello Ok, allora Ok, allora Ok, allora Rildi tu godi e poi ditemi quando andate che faccio io Ok, fai Andate Ah ma apre un portale, ok Saremo dentro tutti perché io sono da solo adesso Manchi solo tu Sì, manchi solo tu Davide Eh, io sono già qui e sono da solo Tu precenti da solo? Nooo Eh, qualcosa da fare c'è Qua non puoi... Qualcuno non può raggiungermi, almeno facciamo due gruppi almeno Io non puoi oltre a una veste dopo la guarda video dei pantaloni dobbiamo far fuori questi qua ok dobbiamo far fuori questi questo mi sta che unile con questo qua dietro siamo nello stesso punto aia mi hanno leccato sopra ok maia che botta che mi ha dato no ce l'ha con me questo maia porca miseria divento piccolissimo ma è vero sono diventato piccolo cos'è successo io sono da solo anch'io aspetta aspetta aspettate io sto parlando col tipo ma io sono da solo adesso c'è una meccanica ok lui sta spiegando che la città è dentro questa sfega capito ok ok giusto ma io sto andando avanti sinceramente sto entrando nella maintenance junction vieni Christian vieni Christian vieni Christian mi preferito è arrivato oh t'aspetto tanto mi guardo questa questa veste aspetta ok l'ho fatto e vabbè è sempre verde ma perché vabbè dobbiamo entrare si si ah marbas ma io sono davvero piaci davvero piaci vieni davvero piaci nel mio fatto amico giusto vieni con dottor avviene vieni vieni di vieni a vieni a vieni 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 vi Sto a rivelare i piani, no? No, chi è che è andato avanti? Faccio eccomi qua, eccomi qua Qualcuno ha finito il dialogo e mi ha interrotto tutti i dialoghi Beh, non penso nemmeno i due Allora sono stati Christian e cosa? Ma com'è possibile? Scusa siamo in un'altra cosa Eh boh, poi magari fate le cose uguali Ok, ci sono delle lame che girano occhio Cazzo, è diventata Aspettiamo qua, allora Ahia Ok, quando volete Se lo volete Ok, vogliamo, aspettiamo un attimo gli altri Voi aspettate, io sto so Sì, io ne abbiamo sparato le prime lame rotanti No, non c'è ancora le lame? No No Ah sì, eccole qua le lame, le sto prendendo No Oh Che vedo Ah, porca miseria Sì No, aspetta Ok, guarda Non so come lo faccio Non so come lo faccio Kogi con lo shift Con lo shift Oh, guarda, l'hai spostato, cazzo Allora, aspetta Da che parte dobbiamo andare? Ok, sono esplose Ah, vediamo lì sull'a destra Ne sono due E ce n'è anche uno di là però Occhio, ne arriva anche uno di qua Qua ci sono lame rotanti di nuovo C'è uno a caso Adesso a sinistra Dai Prima di parlare aspettiamo però perché Disable the fuck totem Ah sì, qua Dobbiamo andare di qua Aspetta, vieni qua Io vado a L'ho disabilito io questo Ma io vado a seguire Fabri Qua Ah, cazzo, sbagliato, scusate Sfitto, cazzo Ah, le lame Ah, qua c'è da disabilitare Sì, dove Bisogna disabilitare i cosi qua Ok Uno l'ho disabilitata io Occhio alla lama Adesso devo andare all'altro Sì Occhio Andiamo all'altro anche noi Adesso Ok Adesso Passare Le avete disabilitate entrambi voi Sì Allora aspetta, aspetta, fermiamo Stiamo scendendo Aspetta Fagmi Dove dobbiamo andare adesso Sopra Sopra, sopra Sopra a sinistra dovrebbe essere Sì, è quello là Sì, a sinistra, oddio Guarda quel stico sopra Trovare un'altra via Per arrivare da lui Non si può Esatto Sì, dobbiamo tornare indietro Mi sa Sopra Oh, questo meno Voi siete Ah, comunque sopra ci sono In garage che girano Non so se avete visto Avanti qua Andiamo Sì, siamo alla porta Vai Siamo Adesso magari ci uniamo a noi Allora, ti immagino No, non credo Non, non proseguiamo Finché non cai Qua c'è entrato Non basta un video nostro Mi sono entrati Vai, vai, vai Ciao Adesso Sono sul altro punto Apriamo Apriamo l'altro punto Ok 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 Sì 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 Ce l'avevamo già Ma io sono solo Voi dove siete Arriviamo Stavamo finendo il dialogo Voi state correndo Come dei disperati Ah, va che qua C'è un altro caricamento Quindi magari no Che è venuto però Non fare le cose assieme Per lo trovare Devo provare a scrivere Nel gruppo Che sono Di soluzione Aia No, 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 no Ma io sono passando senza beccare un colmo Sì, ho hito. Ma tu non sai, ho hito. Ma tu non sai, ho hito. Non so se ti, sei gioco. Scusami, Bobbis? Igualmente? Ho chiuso a capire qualcosa da tua ultima lanciamento? Ok, noi siamo arrivati dove c'è lui. Noi avete affrontato centinaia di hiti, i granchiesti. Sì, siamo subito dopo. Ok. Oh! Ok. Parliamo così. Sì. Oh! 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 Ok, quindi, lui non viene con noi. Lui, eh... Ci viutega da qua. Ok. Perfetto. Completata. Ho fatto anch'io. Dobbiamo entra... State entrando. Eh... 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 Sì, è una difesa, mi sa. Ah, io l'ho attaccato, ma... Oh! Sì. Eh... Lo possiamo attaccare... Dobbiamo attaccare? Sì, sì, sì. Ma attaccare... Occhio! E fa... E fa... E fa parecchio male anche. Sì, però... No! Abbattetelo! Abbattetelo! Buon! Andiamo? Andiamo. Eccolo un altro. Quanti sono? Ah, ma aspetta! Dobbiamo far fuori anche quello in mezzo! È certo! Porca miseria! Io conquisto quello in mezzo! Così non posso niente! Attenzione alle lame! Ma qua non c'è... Ci sono sti robottini del cazzo! Cazzo! L'importante è muoversi sempre! No! Ah! Si cura! Si cura con i robottini! Sì! Lo sto rincorrendo! Ok, fatti fuori! Ok! Ok, buon! Ok, buon! Ok, buon! Ok, buon! Open the north fort and destroy its defenses! E sarà uguale da questo lado! Eh, non è uguale! Eh, non è uguale! Pre... Marmotti! Come prima! Basta girargli attorno! Non ce n'è! Adesso poi non ha quelli che ripurano! È fatto diversamente! Ma non dai ghett a Davide! Primo che abbiamo incontrato! Ma però non c'è se ti attacchi in qualche modo, eh! Questo ti gusta! 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 Oh! E qui non vedo niente! Sì, guarda in un altro... Eccolo! I wanted to wear something special! M***a! Eh questo è un boss! Speriamo che in due ce la facciamo noi! Porca miseria! Eh dai provo! vabbè oh boh io attacco porca miseria oltre no se te te spettacolo no no e se te te spettacolo cazzo e tolto qua occhio che ancora è tornato la occhio di qua a sinistra eccolo qua ma non muove occhio ok andato dall'ultima parte occhio che sto tornando al centro aia mi ha buttato ancora Dega lì aia maledetto non è tornato guardo no ci sono fitte in mezzo aia aspetta sta succedendo arrabbiatissimo vabbè oh mi prendono sempre a me sti cosi si dai quasi morto quasi morto ok noi ce l'abbiamo fatto l'abbiamo ok andiamo lì burca i minion morto not of interference makes it difficult to lock onto a destination I'll go ahead to stabilize the connection si prendi allora prendete no ho preso un tio allora prendete lo scelte o l'ho preso io voi prendete cercate qua ok vai vado guarda è un canetto aspetta c'è anche qualcos'altro un portale si se l'ho entrato entrate state entrando adesso ci dovremmo rincontrare no è Francesca vediamo ok allora scusate che faccio una cosa ma dov'è la spallina le cambio non so cosa devo fare parlate con la statua ah è magari parlare devi parlare devi parlare deviacao devi parlare questo al tifo ah perché siamo questo il fine il fine questa piccola pensa che è smart ma i miei plani sono profondo compagnia ancora anche ok quindi Ah, andiamo a parlare con l'altro tipo Quando ci siete, vado avanti Siete già con belli il zar voi? Beh Pari il zar Chi si tratta di introdurare la mia scuola? Ho trovato! Qui qui? Oh, il filo di Clavicus Questo non è bene Ho perduto un po' di una città di Clockwork City e Vivec Ma è stato semplice per cercare la sua signatura di energia a questo giorno L'afforzamento, qualche potenza sta interferendo con i miei esforzi per creare un portale per te Oh, questo potrebbe essere un portale per te L'afforzamento, hai bisogno di aiutarti Beh, io e Sonara Expanditi una piccola energia di Vivec Alla statua E questo potrebbe servire abbastanza di distrazione per me Per farci fuori Ok Io ho cliccato Cioè, giuditemi quando... Ok Ok, aspetto Ok 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 vado belle che siamo cosa è successo si ricongiunge con se stesso grazie a Vavec, la sua energia è ristortata ok, vado vado meraviglioso, un ordinatore o armature potrebbe fare meglio hai scopo di un spio daedric in noi hai portato un dottor vivente da terra e hai salvato tutti i Vadenfell benissimo, mio amore come la mia prossima domanda un pugnale, ma che palle ah, mi mancava un brisolo per avere un altro hai fatto molto per me e per Vadenfell ma come il warrior dice a me manca un po' no ho parlato delle persone in Ebonheart, ma ho trovato che alcuni dei miei seguenti apprezzano qualcosa di più tangibile. Aggiungo me aiutare a tutti che aiutero nel salvamento di Ardenfell. Perchare, riconosci il signore dell'Archcanon da l'Hall of Wisdom. È ora di appartire un nuovo Presidente. Ho giocato i miei persone e incontro a te nella mia stagione sul canto centrale. È una ceremona gloriosa, mio amore. Ok. Ah, devo sceglierne uno. Taylor, crafting box, lead wrecking o blacksmith? Blacksmith. A te che dici, Emile? Quella lama che ti ha dato. Non è neanche il tuo genere, mi sa. No, comunque io uso arma a due mani. Eh, appunto, infatti. Ah, posso aumentare il fulmine. Ok. Eh, sopra. Quante, quante? Ah no, dobbiamo prendere le cose, vero? Io stavo leggendo quale cosa. Io te l'ho trovato. Eh, hai già trovato. Anch'io. Eh, era nello scrigno. Le banane. Oh, una ricetta. Alla stato, sa quell'alte. Ah, ecco qua, c'è stata la gente. Quinti. You cursed the darkness with good reason. Now, praise the return of the light. The eyes and ears of the warrior poet returns. And just in time for the gathering crowd. Were you able to locate the Arch Cannon, Signet? Continue to guard it. E quindi Quasi vuoi che faccia As I call forth my faithful Reach into the sack And give them the first thing you find They shall hear my words of praise and gratitude While it shall be your hand That reward Ditemi quando fate Sono pronto perché mi sa che Non so se fate qualcosa Eccoli qua Vi dovete spostare Oversiore Shiralas You sacrificed your blessing stones To aid the warrior poet Well done Take these recharge stones And finish building my city After relaxing with your patient wife Chi lo fa la faccio io dai Ok vai No ma dobbiamo parlare tutto Ricompensa Ok Ah ok Allora ognuno di noi Vede la propria scenetta Ok Che devo fare? Dovete schiacciare Ok Ah ho capito Sta premiando la gente Buongiorno Come sempre Vede tre volte Eh non avevo capito Che erano quelle Ok Cannon Levul Kneel before me Was that Did Lord Vivek summon me? Archcannon Tavis Serve us well Until his death But when I was most In need of assistance Cannon Levul Rose to the occasion Now rise once more As archcannon Levul My lord I'm not worthy But I shall endeavor To become so Thank you And I can't wait To inform my ancestors In every poem It's the last stanza That holds the most meaning Once a stranger to our land Now a friend forever Step forward Stanza Ce l'ha con noi Si Ce l'ha con noi Mi sa Si Ah che bello Ci dà un regalino anche a noi As I have written Treat your enemies well And your friends even better Know that I consider you To be a very good friend Will you accept the honor I'm about to bestow upon you No ma che sfiga Aspettate Aspettate Ma In this moment Take this modest reward I foresee even greater achievements In your future But for now Be content To be the hero of Morrowind Allora Un tatuaggio Che che l'ha E Se no c'è la È bella l'armatura Però io voglio rimanere Con la Con la cosa È viola Però è più Dolina Oh ma mi dà tutto Mi dà Avevo capito che dovevo scegliere No no Si dà tutto Que Che 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 Che